Ora, questo livello zero è il livello totale, ci si ferma lì. Perché? Perché comunque lo strumento digitale inserito all'interno della didattica permette di andare molto molto nella nostra materia, nella nostra disciplina, di andare su contenuti molto più interessanti, di sviluppare capacità estremamente di problemi sordi, estremamente alti. Tanto nella vita la calcolatrice e l'equazione con Wolfram Anfield potranno risolvere a qualunque istante. Ribadisco, io non voglio, cioè il mio livello zero di competenza, di calcolo c'è sempre, non voglio dire che non sia assolutamente inutile, per carità di Dio, devono sapere quello che fanno e come si deve fare. Ma su livelli molto alti, che non insegno è uno scientifico, quindi non mi posso permettere, non posso arrivare a delle questioni parametrile, non posso arrivare a dei concetti troppo alti, io utilizzo tantissimo e spingo su queste cose perché mi permette di arrivare a tanti concetti e fare dei percorsi uniti molto più alti di quelli che loro potrebbero fare senza supporto digitale. Quindi questo è un po' il problema finale, quindi l'ultimo prodotto digitale, e presentarmi una soluzione a questo problema qua, dove viene fatto vedere questo video, è un video piccolino e in alto, è un video dove il pullman taglia la corsia delle biciclette per girare e i ciclisti si trovano strozzati dal pullman che passa. Allora la domanda è, modellizziamo, proviamo a capire, è molto semplice questo problema, individuamente, provate a dirmi come può un pullman non andare sulle strisce, sulle strisce pedonali che traiettoria deve fare, cosa deve percorrere, e siamo sempre nell'ambito dell'equazione del secondo grado e loro andranno a modellizzare, a fare il loro disegnino, a cercare situazioni, si tratta di lavorare sul triangolo che è la regola di Pitagora, quindi è molto molto semplice, e loro proporranno nella forma che vogliono, e qui c'è l'abilità tecnologica, con un'app, con una presentazione, con una mappa, uno schema di flusso, un algoritmo, qualsiasi cosa, scratch, mi vanno a raccontare con quello che ritengo il mio appropriato, qual è la soluzione del loro problema. Quindi qua ci sono tutte e tre le tappe, la scoperta dei contenuti, l'approfondimento dei contenuti, la sperimentazione e la modernizzazione, e poi il caso reale, il compito autentico, preso da un... non voglio troppo tediarmi con la matematica, ma era proprio per raccontarvi un po', un po' lo spirito che ci ha portato a lavorare in questo modo. Adesso passo la palla a mia collega che vi racconterà un po' di applausi. Anche noi, per quanto riguarda, siamo partiti un po' da questa idea di, soprattutto la storia, no? La storia raccontata ai ragazzi e poi ripetuta in modo sistematico dai ragazzi, non se appunto non sono liceali, quindi in un istituto professionale normalmente ci va bene quando abbiamo una memorizzazione, una ripetizione, una trasmissione appunto mnemonica e ripetitiva dei contenuti, che è piuttosto avvilente, piuttosto triste, perché appunto il contatto con le fonti non si ha, se siamo un libro un po' dinamico, con i contributi aggiuntivi, ci si può permettere qualche cosa, però spesso le categorie spazio-tempo per loro rimangono una bestia nera, perché comunque non si sanno a volte neanche orientare nel tempo e c'è una trasmissione meramente ripetitiva di quanto ha detto l'insegnante. Un po' appunto stufi di questo sentire, propagarlo, ripetere le cose e poi appunto dare il voto se è appunto la rispostina, la crocettina, un po' stufi di questo approccio, abbiamo pensato appunto di lavorare anche nelle discipline scientifiche non in modo tradizionale, in questo caso scientifiche umanistiche in modo metodologico cambiando e ripartando un po' quello che era l'approccio con i contenuti. In questo caso appunto il manuale di solito orienta, non si fa storiografia per nulla, perché comunque il manuale ci dà già un'impostazione e un approccio, normalmente poi docente sta docente per far vedere aspetti della storia diversi, non c'è mai molto tempo per fare questo, i nostri allievi fanno fatica ad arrampicarsi sulle fonti, fanno fatica a incontrare a volte proprio la fonte, soprattutto quando la fonte è molto antica, non padrone in giro latino, quindi ad esempio tutta l'approccio con la storia medievale è praticamente impossibile, quindi che cosa fare? E allora in questo caso abbiamo cominciato a pensare delle unidadisciplinari anche per quanto riguarda storia ed è nata ad esempio questa unità didattica sul personaggio di Nerone. Nerone è un personaggio celebre, famoso, tutti ne sanno qualcosa, i ragazzi meno male hanno già imparato dalle scuole elementari, ha sì l'incendio, ha sì i cristiani, ha sì le persecuzioni, quell'uomo cattivissimo, poi quando arrivano appunto alla scuola superiore ripetono esattamente le stesse cose, quindi autore dell'incendio, autore delle persecuzioni e si va velocemente affrontando questa questione. In realtà questo personaggio è un personaggio che si presta ad esempio a vedere sì le ombre di Nerone, ma anche a vedere delle luci perché comunque ci sono delle ragioni che ci possono far capire che il personaggio Nerone in qualche modo storiograficamente è stato anche un po' pesantemente condizionato perché i suoi nemici, in particolare Tacito, ne hanno dato un retrattino mica da ridere proprio finalizzato ovviamente a determinate ragioni storiche. Questo ovviamente consente anche di mettere i ragazzi di fronte a delle situazioni, a dei casi, a dei problemi, a dei personaggi, a delle vicende, a della storia e fare in qualche modo capire che non tutto quello che i libri scrivono è tutto in qualche modo orcolato, è un'interpretazione sempre e solo un'interpretazione, sono possibili più interpretazioni ed è importante che appunto nasca una sorta di senso critico quando si affronta a qualsiasi fatto e qualsiasi problema. L'altro aspetto molto interessante che consente di fare la storia è in qualche modo l'idea che comunque passato e presente hanno profondi legami e quindi a volte dallo scavare nel passato è possibile tornare al presente e in qualche modo far capire che noi siamo il frutto di quello che c'è stato, però tante cose in qualche modo comunque continuano o comunque troviamo dei chiari riferimenti, delle chiare ripercussioni anche nel nostro presente. Quindi questa modalità del contatto tra il passato e il presente è una modalità molto attiva che mette gli allievi nell'idea che la storia non è solo una questione trasmissiva. L'altro aspetto appunto è l'idea che comunque si può lavorare su dei documenti, si può lavorare su delle fonti, si può lavorare su del materiale aggiuntivo, non solo sul libro di testo che va memorizzato e in qualche modo appreso. Tutto questo però non da soli perché i ragazzi da soli non sarebbero in grado ovviamente di affrontare questo grosso elemento sfidante. Il problema di Neone parte appunto, per me parte a casa. Come diceva appunto Francesca prima lei realizza questi meravigliosi video in cui spiega come procedere con il calcolo, con l'esercizio, con la teoria, c'è tutta una parte molto grande di teoria. A me l'idea non convinceva, nel senso che per la storia mi convinceva di più che loro avessero la possibilità di cercare in un video dei contenuti, dei contributi che ampliassero il loro panorama, che in qualche modo calassero gli allievi in un contesto storico e facessero capire loro che ci sono tanti collegamenti, tante connessioni possibili rispetto ad un avvenimento di un personaggio. In questo caso abbiamo utilizzato una puntata tratta da Alberto Angela con appunto il programma Ulisse che tra l'altro ragazzi piace molto perché in modo molto didattico li guida far scoprire tutta una serie di cose, di agganci, di percorsi legati appunto ad un contesto storico e ad un personaggio. Questa puntata aveva una serie di contenuti aggiuntivi che noi in parte abbiamo eliminato perché non ci interessavano, avevano il compito quindi di vedere una serie di minuti, una quarantina di minuti di questo video e poi in questo caso appunto rispondere, provare a rispondere a casa schematizzando sul quaderno, schematizzando sull'iPad come volevano, tutta una serie di elementi che contribuissero a creare il personaggio Nelone. Chi è veramente Nelone? Perché in questo video appunto si facevano vedere tutta una serie di aspetti molto diversi di questo personaggio. Quando gli allievi tornano a scuola insieme come appunto si era detto, ognuno di loro propone la propria scaletta di contenuti, i propri nodi, i focus, le cose anche non chiare e in qualche modo si mette insieme tutta questa serie di contenuti e in questo caso si arriva poi a formulare una seconda domanda. Perché l'imperatore Nelone nella storia ha avuto una luce così sinistra e soprattutto alla luce di quello che noi abbiamo ascoltato, alla luce di quello che noi abbiamo sentito, è possibile in qualche modo delineare il tratto che in questo caso ci parli di un Nelone anche diverso, quindi tra le luci e le ombre. In questo caso appunto c'è la possibilità di far emergere tutta una serie di contenuti in un testo e ricostruire anche il contesto, quindi calarlo nel percorso di storia con i fatti importanti e salenti di questa esperienza. Un ulteriore approfondimento proveniva da un volume del National Geographic qualche anno fa in cui si parlava appunto della figura di Nelone e dove chiaramente emerge che ci sono quasi due elementi della biografia di Nelone in cui una prima parte, il personaggio in qualche modo ha una serie di luci, quindi di aspetti positivi che sono comunque legati alle prime fasi di governo e una seconda fase che invece è quella dove emergono tutte quelle tematiche legate al dispotismo e alla crudeltà, alla prosecuzione degli ebrei. Da qui nasce un lavoro cooperativo, un pilot in cui gli allievi appiccicano i loro post-it con tutta una serie di elementi, da una parte gli aspetti positivi e dall'altra gli aspetti negativi per ricostruire pienamente il ritratto del personaggio. La conduzione prosegue ancora con un lavoro sulle fonti. Questo articolo è tratto da una storia network in cui si appunto mettono in evidenza una serie di aspetti legati soprattutto dai concetti chiave, il rapporto tra questo personaggio con il potere, quindi in questo caso il senato, l'esercito, alcuni personaggi importanti che in questo caso hanno contribuito a modificare anche le luci e le ombre su Neone, da cui si realizza una mappa concettuale in cui si mettono in evidenza tutti i vari aspetti che sono stati ricostruiti in questa lettura e in questa analisi, fatta in gruppo ovviamente insieme. La conduzione della sfida ovviamente è far capire agli alieni che non sempre quello che noi leggiamo su libri è in qualche modo un'unica versione, ci possono essere più letture del personaggio e loro hanno già imparato a capire che è possibile in qualche modo comprendere che Neone ha più sfaccettature, che ci sono più dimensioni di uno stesso personaggio e soprattutto è possibile costruirsi un giudizio critico, un approccio critico rispetto a fasi, a momenti diversi di quello che è stata la storia di questo personaggio e ovviamente i vari rapporti con le istituzioni e con i poteri possono condurre gli alieni a far capire determinate, giustificare o comunque far comprendere agli alieni determinati atteggiamenti. si è riproposto un piccolo laboratorio di storia, quindi cercare di realizzare in gruppo ovviamente un piccolo percorso in cui ad esempio ci si cara nel contesto, ci si avvicina a un personaggio di Tacito che loro attraverso tutta questa serie di contributi hanno potuto in qualche modo conoscere e provare a mettersi nei panni di questo personaggio perché poteva avere il dente avvelenato nei confronti di Neone e in qualche modo provare a realizzare un'intervista in possibile Tacito spiegando il giudizio del personaggio. Quindi io devo conoscere bene il personaggio e devo anche capire le ragioni per cui questo personaggio in qualche modo è stato dipinto, disegnato o in qualche modo raccontato in questo modo. Il lavoro è stato poi realizzato, lo strumento era in qualche modo scelta, però il lavoro è stato poi realizzato con un podcast e quindi è stato utilizzato questo strumento ulteriore. A casa si è riproposto come integrazione del lavoro una seconda parte del video da cui si era partiti perché qui in realtà ci si focalizza sull'episodio nel 64 l'ho visto e anche qua molto sbrigativamente nei libri di storia spesso ci si dice appunto che è nella data tot, il grande incendio, poi costruzione della domus, Neone in qualche modo è ritenuto responsabile, il cristiano è accusato giustamente e via si passa ad un altro imperatore. In questo caso appunto dal video emergono tutta un'altra serie di fattori che in qualche modo fanno emergere alcuni aspetti positivi della figura di Neone perché Neone comunque ha lavorato per cercare in qualche modo, è vero si è fatto costruire questa meravigliosa domus, ma ha anche operato affinché non accadessero più incendi, quindi il corpo dei pompieri a Roma nasce proprio in questa occasione, frutto appunto di incendi devastanti che accadevano il fatto che comunque ha immediatamente i primi soccorsi, ha aperto i giardini della sua casa, ha ospitato molti profughi della città, ha dato, ha elargito una serie di distribuzioni proprio per ripagare o ripianare questo disastro. Un altro aspetto interessante è l'aspetto della ricostruzione storica, i ragazzi devono un po' anche a volte imparare che la storia che loro leggono sui libri non è frutto di fantasia ma è frutto di un'evoluzione e anche a volte evoluzione, immagino voi lo facciate molto bene nell'aspetto di geografia, ma comunque è un'evoluzione e un cambiamento del territorio. Partendo proprio da una mappa dell'epoca imperiale, cercare di individuare, il video ne parla in dettaglio, cercare di individuare quali sono i luoghi attraversati i percorsi del centro della notte del luglio del 64 d.C. e poi andare a individuare questi luoghi nella carta geografica con ausilio, ad esempio di Google Earth, con in 3D, anche in 3D di andare a rivedere questi luoghi oggi, nel presente. E in questo caso appunto presentare questo con una scelta dagli allievi con una carta interattiva possibilmente. si è ritornato a lavorare ulteriormente sulle fonti e in particolare appunto abbiamo preso Tacito, a casa hanno avuto a disposizione, caricati in piattaforma, una serie di parti tratte proprio dal testo di riferimento in cui si parla dell'incendio, quindi una serie di passi finalizzati proprio a capire il momento in cui a Roma tutto stava bruciando e un breve straccio del video di Quo Vadis tratto appunto dal film. Perché? Proprio quello perché appunto lì esce il ritratto negativissimo di questo neurone gaudente, di questo neurone particolarmente fuoco amabile che ovviamente si vendica sui cristiani. Quindi due fonti che in qualche modo potevano far ulteriormente approfondire e spiegare la figura di questo personale. A questo punto, tornati a scuola, in classe, in gruppo, gli allievi hanno tutto il contesto. Sono perfettamente il personale, sono entrati in contatto con le fonti, si sono fatto un'idea dell'orientamento delle fonti, del perché tali fonti sono orientate, sono in grado di calarsi nei personaggi. E in questo caso appunto dopo aver evidenziato con una linea del tempo, una mappa, qualsiasi attività era in qualche modo consentita di poter evidenziare in uno schema di sintesi quello che loro avevano evidenziato nei loro appunti presi a casa e poi appunto evidenziare gli aspetti negativi, gli aspetti positivi del personaggio. Tutto questo finalizzate appunto a fare una riflessione che li conducesse al rapporto tra passato e presente e in particolare le persecuzioni. L'anno in cui l'abbiamo affrontata era un anno fa, c'erano stati tutta una serie di casi eclatanti legati proprio a questo aspetto e quindi era molto facile, lo è ancora adesso, ripescare questo aspetto del rapporto della persecuzione religiosa finalizzata appunto al mondo. Un gruppo può lavorare ad esempio sulle eccellenze per evidenziare un evento catastrofico del presente per poi appunto cercare di far mente locale su come oggi si possano aiutare situazioni di grave persecuzione, di grave conflitto e la Siria in particolare, i troppi siriani, le attività che vengono fatte, loro lavorano in un arbitro sociale e quindi per loro è molto facile lavorare su questi contenuti. La sfida si conclude con una serie di lavori a partire da una tavola cronologica che riprende tutto il framework concettuale, quindi viene realizzata una tavola cronologica con tutti gli avvenimenti e tutti i personaggi che sono in qualche modo emersi attraverso le varie fasi del laboratorio, a scelta, gli allievi, non abbiamo ancora trovato la nostra ideale, ogni tanto ripercorrono le strade del passato, ogni tanto vanno alla ricerca di qualche cosa di nuovo. L'importante è che questo consenta loro di padroneggiare tutto il framework concettuale e gli avvenimenti. È possibile, come diceva Francesca prima, far fare prove e arrivare al livello successivo, quindi far realizzare a loro il gruppo dei prodotti. È possibile fare una prova sommativa, io ho sperimentato in particolare con storia delle prove sommative fatte con Socrative, a loro piacciono molto i test Socrative, si sottopongono estremamente volentieri, a test massacranti anche di 40-50 domande, perché c'è questa competizione del test Socrative in cui loro veramente dopo aver elaborato, ricostruito, fatto mappe, schemi e appunti, in qualche modo si sentono veramente padroni dei contenuti. Socrative lo usi con le quattro opzioni, quindi risponditore automatico a crocette, è l'equivalente delle carte, quindi una risposta, una domanda e quattro possibili risposte, tipo telecomando. Loro usano su iPad perché avevano lo strumento digitale in classe, quindi... Sì, perché ne usano poco, però abbiamo avuto alcuni esempi di Cout e alcuni di noi in classe, alcuni di noi in classe usano quello Blickers con le carte... Sì, sì, sì. Invece con l'ASWAD estremamente facile, a loro piace tantissimo, perché poi c'è questo livello sfidante perché si va di livello in livello, di livello in livello e per loro è veramente quasi una sfida con se stessi nel cercare di dimostrare che effettivamente padroneggiano il contenuto e quello che risolve il problema del contenuto. Poi c'è il compito autentico che va al di là del contenuto, perché il compito autentico richiede ai ragazzi di immedesimarsi in quel percorso di storia che hanno fatto e di cercare in qualche modo di ricostruire nel modo più sensato possibile, nel modo più credibile possibile, utilizzando ovviamente anche altre forze, ovviamente quello che è una sorta di percorso, di compito che in qualche modo vi cali in quella realtà. Uno dei lavori era ad esempio quello di immedesimarsi in uno dei congiurati, c'era il problema ovviamente della congiura di Aroniana, quindi di immedesimarsi ad esempio nel personaggio di Pisoni, uno dei congiurati e ovviamente cercare di esprimere tutto il sentimento d'odio che emergeva appunto da questa ricostruzione. secondo compito autentico era uno degli altri gruppi, un'intervista impossibile, il maestro Seneca e ovviamente cercare di calarsi nel personaggio di Seneca e tutte le motivazioni che avrebbero spinto Seneca ad esempio ad aderire alla congiura. L'altro era realizzare un racconto breve immedesimandosi in uno degli incendiari, uno dei personaggi che hanno appiccato il fuoco nella notte del luglio del 64, ovviamente un cristiano e questo personaggio potrebbe avere un antagonista il quale ovviamente con il sospetto della congiura tenta di fermare i nemici dell'imperatore, quindi calarsi in entrambe le visioni. Per cercare di monitorare, come diceva Francesca, tutto questo lungo percorso, questi compiti autentici e questi lavori di gruppo, noi abbiamo provato a declinare delle schede di valutazione, ci siamo in qualche modo un po' illustriate nel cercare gli indicatori, non sempre è così facile cercare di contenere tutto questo lungo percorso e non è sempre facile l'osservazione. Dove sta il docente mentre gli allievi fanno tutto questo percorso? C'è sempre, loro chiedono sempre aiuto, ovviamente nella ricerca delle fonti, chiedono se ovviamente il docente in qualche modo può dare una mano, se l'utilizzazione di un percorso, di una app in qualche modo può dare una mano, se ovviamente quello che stanno facendo è adeguato e proporzionato, quindi il docente c'è sempre e poi il docente in qualche modo sta intorno e osserva. Abbiamo provato a modellizzare una valutazione del lavoro di gruppo, abbiamo individuato degli indicatori, c'è un indicatore molto poco un po' di calicord, che è quello che è molto semplice. Noi ce lo siamo lasciate così perché il servizio è interno a noi, perché in qualche modo nei gruppi emerge sempre un capo carismatico che è quello che in qualche modo è volontariamente, poi alla fine è quello che guida il gruppo, è quello che fa da referente, quello che coordina il lavoro. La nostra utenza in ogni gruppo, quando facciamo lavori su eccellenze, ha sempre, normalmente nel gruppo, un elemento debole, per esempio, che può essere il ragazzo con handicap o il ragazzo che in qualche modo è meno coinvolto da un tipo di lavoro, da una disciplina, quindi è sempre l'elemento un po' l'anello debole della catena e quindi abbiamo utilizzato questa parola, sappiamo, un po' con political record, ma effettivamente c'è sempre comunque un ragazzo che presenta delle difficoltà nell'operatività del gruppo, che viene sostenuto però comunque dai compagni. Abbiamo cercato di capire quali sono, ovviamente, gli aspetti, se il gruppo si coordina, qual è l'interdipendenza positiva, quindi se lavorano in modo coordinato, se riescono in qualche modo a rispettare i tempi, le fasi, le richieste, se il lavoro di documentazione è adeguato, se le strategie che loro scelgono quando incontrano un problema sono ovviamente calibrate, se perdono un sacco di tempo a risolvere un problema tecnico e perdono di vista l'obiettivo che è quello di portare a casa un lavoro e poi ovviamente se riescono nella consegna finale a produrre un lavoro adeguato rispetto a quello che la consegna. Per ora stiamo in qualche modo fermi a questo tipo di parametro. Volevo solo dire che questa, noi alcune volte è opportuno dare ai ragazzi la stessa scheda per l'auto-monitazione, no? Non è questa che combiniamo con loro. Questa è data dall'osservazione dei gruppi. Noi abbiamo fatto prima tutto un lavoro con una rosa rossola di osservazione e monitoraggio del lavoro del gruppo ed è nato questo lavoro. quello che interfacciamo con loro non è questa ovviamente, cioè il tuo ruolo è una cosa ben diversa da classificare ovviamente con l'etichetta, ma siccome questi due atteggiamenti come dice la collega ci sono sempre, non è questa che abbiamo condiviso ovviamente con loro, ma era solamente per noi per identificare le criticità e i punti di forza. e poi anche per misurare il fatto che comunque quando questo problema si presenta loro in qualche modo lo devono affrontare, perché non possono mai abbandonare nessuno, loro hanno il proprio destino, quindi non è che poi se uno non ce la fa lo lascia in diretto. E allora come anche il gruppo interagisce in questo caso con chi è più in difficoltà. Abbiamo anche prodotto una griglia di valutazione del prodotto che può essere digitale, non è sempre detto che sia digitale. In questo caso appunto ci siamo chiesti se è pertinente, aderente alla consegna, se c'è un lessico specifico adeguato, se in qualche modo il cuore di ricostruzione è opportuno, se è originale. Sull'originalità i ragazzi adesso si stanno un po' scatenando perché loro quando presentano i loro prodotti hanno questa griglia di valutazione, quindi ascoltano i loro compagni e danno una valutazione. Sul tema dell'originalità adesso si stanno un po' confrontando perché alla fine sperimentano un'altra, sperimentano anche un'altra ancora, sono un po' in difficoltà nel trovare delle cose originali, quindi non valutano più l'aspetto della originalità ma il fatto che comunque il prodotto digitale sia adeguato e sia ovviamente confacente rispetto a quello che erano le richieste. se il lavoro è completo, se ovviamente ben organizzato è ovviamente la competenza digitale, per noi la competenza digitale ormai è imprescindibile anche se il prodotto eventualmente non è digitale. Stesso discorso per quello che riguarda i compiti attenti, quindi la griglia di valutazione è allo stesso punto. Sicuramente rispetto a una mera trasmissione puramente mnemonica dei contenuti qui si affronta la complessità. Ragazzi si rendono conto immediatamente che la storia è un fenomeno complesso e non è un affare per tutti, cioè non è una roba che basta libro di testo e basta. E imparano che comunque loro il concetto di fonte si un po' l'hanno percorso nelle scuole medie, forse nostre, neanche così tanto. A volte ignorano il fatto che comunque qualcosa che è accaduto nel passato abbia dei riferimenti così importanti nel presente che comunque ci siano dei collegamenti, a volte lo scoprono proprio facendo questo tipo di percorso. Sicuramente aumentano il senso critico e sicuramente acquisiscono la capacità di giudizio che prima non avevano, perché il solo fatto di porre di fronte a qualche cosa e ad analizzarlo e non solo alleggerlo e memorizzarlo ma ad analizzarlo, a cercare di capire le ragioni, induce loro un atteggiamento completamente diverso e sicuramente acquisiscono un altro lessico. Il lessico della storia in qualche modo diventa fondamentale e poi sperimentano un'esperienza di laboratorio, quindi in qualche modo smontano, costruiscono, devono avere pezzi, se gliene manca qualcuno, ma cosa succede qui in questo momento? Andiamolo a cercare e quindi in qualche modo hanno l'idea che la storia non sia solo un fatto molto e separato, ma sia in qualche modo ricca e densa. Il lavoro di gruppo ovviamente che aiuta, che supporta, come ho detto prima Francesca, da soli non riuscirebbero ad affrontare queste complessità, sviluppano un sacco di abilità sociali, per cui loro ad esempio riescono anche a far registrare la ragazzina con handicap che ha una balbuzie fortissima, però se bisogna fare un podcast in qualche modo la aiutano finché lei ci riesce e quindi ci sono anche tutta una serie di abilità sociali in questo senso. e poi sapere condiviso. Non sono spaventi.